Satellite per collegarci con Cizia Poli, la sua località misteriosa per le X News. Prego la regia di far partire il collegamento satellitare. Sì, pronto, buongiorno. Oggi abbiamo le New News, notizie nuove nuove. L'altra notte a Milano circa 50 ragazzi sono andati sotto l'abitazione di Daniela Santanchè e Alessandro Sallusti per urlare insulti e minacce. Forse non li hanno trovati su Facebook. Mario Monti è critico col governo di larghe intese. In economia spesso si scrive Letta ma si legge Brunetta. Forse è il caso di scrivere un po' più in grande. Dopo la puntata di Servizio Pubblico con Michelle Bonev, Francesca Pascale chiede 10 milioni di euro. Un po' prestino per pensare al divorzio, no? E se ora la regia mi manda la grafica? Ecco qui. Operazione Verità. Berlusconi ha fatto preparare un opuscolo sui suoi processi. È un raccoglitore ad anelli. New News, settimana nuova, notizie così così. A voi la linea, grazie. Grazie Poli.